GIOCHIAMO AL QUIZ DELLA MORTE Facemmo la nostra evocazione dopo il crepuscolo, usando una buca lunga 6 metri di fronte alla fossa biologica, che era una specie di grossa cisterna gialla, con una faccina sorridente e una scritta rossa sul fianco, l'allegro sciacquone. Certo non si intonava molto all'atmosfera di una seduta spiritica. C'era la luna piena. Nuvole d'argento solcavano il cielo. Minosse ormai dovrebbe essere qui, disse Nico accigliandosi. È buio. Forse si è perso, suggerì speranzoso. Nico versò la birra e gettò il barbecue nella buca, quindi cominciò a cantilenare in greco antico. Subito gli insetti del bosco si zittirono. Nella mia tasca, il fischietto di ghiaccio dell'ostice cominciò a diventare più freddo. Ne avvertivo il gelo sulla coscia. Digli di smettere. Mi bisbigliò Tyson. Una parte di me era d'accordo con lui. Era una cosa innaturale. L'aria notturna si fece gelida e minacciosa. Ma prima che potessi dire qualcosa, comparvero i primi spiriti. Una nebbia sulfurea trasudò dal terreno e le ombre si infittirono assumendo forme umane. Una sagoma azzurra fluttuò verso il margine della fossa e si inginocchiò a bere. Fermatelo! gridò Nico, interrompendo per un attimo il suo canto. Solo Bianca può bere! Sguainai vortice. I fantasmi si ritrassero con un sibilo unanime alla vista della lama di bronzo celeste. Ma era troppo tardi per fermare il primo spirito. Si era già solidificato nella forma di un uomo barbuto con le vesti bianche. Una corona d'oro gli cingeva la testa. E i suoi occhi sprizzavano malevolenza perfino nella morte. Minosse! Esclamò Nico. Cosa stai facendo? Ti porgo le mie scuse, padrone. E rispose il fantasma anche se non sembrava molto dispiaciuto. Il sacrificio aveva un profumo troppo buono. Non ho saputo resistere. Si studiò le mani e sorrise. È bello riuscire a vedersi di nuovo. Quasi in forma solida. Stai turbando il rituale, protestò Nico. Vai! Gli spiriti dei morti cominciarono a luccicare minacciosi. E Nico dovette riprendere a cantilenare per tenerli a bada. Sì, giustissimo, padrone, commentò Minosse divertito. Continua a cantare. Sono venuto solo per proteggerti da questi bugiardi che cercano di ingannarti. Si voltò verso di me e mi guardò come se fossi una specie di scarafaggio. Percy Jackson. Misericordia! I figli di Poseidone non sono migliorati molto nel corso dei secoli, eh? Avrei voluto dargli un pugno, ma probabilmente gli avrei soltanto attraversato la faccia con la mano. Stiamo cercando Bianca di Angelo, risposi. Sparisci! Il fantasma ridacchiò. Mi dicono che una volta hai ucciso il mio minotauro a mani nude. Ma ti attendono cose peggiori nel labirinto. Pensi davvero che Dedalo vi aiuterà? Gli altri spiriti iniziarono ad agitarsi. Annabeth estrasse il coltello e mi aiutò a tenerli lontani dalla buca. Clover si innervosì, al punto da aggrapparsi alla spalla di Tyson. A Dedalo non importa nulla di voi. Mezzo sangue, ci avvisò Minosse. Non potete fidarvi di lui. È estremamente vecchio e astuto. È inasfritto dalla colpa dell'assassinio. Ed è maledetto dagli dèi. La colpa dell'assassinio? Ripetei. Chi ha ucciso? Non cambiare discorso, ringhiò il fantasma. State intralciando Nico. Volete convincerlo a rinunciare? Io ne farei un signore. Basta, Minosse, ordinò Nico. Il fantasma emise un verso di scherno. Padrone, costoro sono i tuoi nemici. Non devi ascoltarli. Lascia che sia io a proteggerti. Li farò impazzire, come ho fatto con gli altri. Gli altri? Ripete Annabeth senza fiato. Sta parlando di Chris Rodriguez? È stato lei? Il labirinto appartiene a me, specificò il fantasma. Non a Dedalo. Gli intrusi meritano la follia. Sparisci, Minosse, comandò Nico. Voglio vedere mia sorella. Il fantasma represse la sua rabbia. Come desideri, padrone. Ma ti avviso. Non puoi fidarti di questi eroi. E detto questo, si dissipò in una nebbia. Gli altri spettri si precipitarono avanti, ma io e Annabeth li ricacciammo indietro. Bianca, vieni, intonò Nico. Iniziò a cantilenare più in fretta, mentre gli spiriti si agitavano irrequieti. Ormai manca poco, mormorò Grover. Poi una luce argentata scintillò fra gli alberi. Uno spirito che sembrava più luminoso e più forte degli altri. Si avvicinò e qualcosa mi disse di lasciarlo passare. Si inginocchiò per bere nella fossa. Quando si alzò in piedi, era la forma spettrale di Bianca di Angelo. Il canto di Nico vacillò. Abbassai la spada. Gli altri spiriti si ammassarono subito avanti, ma Bianca sollevò le braccia, e quelli si ritrassero nel bosco. Ciao, Percy, disse. Era identica a com'era in vita. Un berretto verde calzato di traverso sui folti capelli neri, gli occhi scuri, e la pelle olivastra come il fratello. Indossava un paio di jeans e un giubbotto d'argento da cacciatrice di artemide. Aveva un arco a tracolla. Sorrise debolmente, e tutta la sua forma tremò. Bianca, esclamai. Avevo la voce rutta dall'emozione. Era da tanto che mi sentivo in colpa per la sua morte, ma ritrovarmela lì era perfino peggio, come se quella tragedia si fosse appena rinnovata. Ricordai quanto l'avessimo cercata in vano fra le macerie del gigante di bronzo che lei aveva sconfitto, pagando con la vita. Mi dispiace tanto, mormorai. Non hai nulla di cui scusarti, Percy. Ho fatto la mia scelta, e non la rimpiango. Bianca! Nico si fece avanti inciampando, come se si fosse appena ripreso dallo stupore. Lei si voltò verso il fratello. La sua espressione era triste. Come se avesse temuto a lungo quel momento. Ciao, Nico. Quanto sei cresciuto. Perché non mi hai mai risposto prima? gridò a lui. Sono mesi che ci provo. Speravo che rinunciassi. Rinunciare? Ripete lui addolorato. Come puoi dire una cosa del genere? Sto cercando di salvarti. Sto cercando di salvarti. Non puoi, Nico. Non farlo. Percy ha ragione. No! Lui ti ha lasciata morire, non è tuo amico. Bianca tese la mano come per accarezzare il volto del fratello, ma era fatta di nebbia. Evaporò, non appena fu vicina alla pelle viva. Devi ascoltarmi, continuò. Portare rancore è pericoloso per un figlio di Ade. È il nostro difetto fatale. Devi perdonare, promettimelo. Non posso mai! Percy è preoccupato per te, Nico. Può aiutarti. Gli ho permesso di vedere che cosa avevi in mente, sperando che ti trovasse. Eri tu! Esclamai. Sei stata tu a inviare i messaggi, Iride. Bianca annui. Perché aiuti lui e non me? Non è giusto! Ora sei vicino alla verità, gli rispose Bianca. Tu non sei arrabbiato con Percy, Nico. Sei arrabbiato con me. No! Sei arrabbiato perché ti ho abbandonato per diventare una cacciatrice di Artemi. Sei arrabbiato perché sono morta e ti ho lasciato da solo. Mi dispiace, Nico, davvero. Ma devi sconfiggere la tua rabbia e smettere di incolpare Percy per le mie scelte. O sarà la tua condanna. Ha ragione, intervenne Annabeth. Crono sta risorgendo, Nico. Cercherà di piegare chiunque alla sua causa. Non mi importa di Crono, ribatte Nico. Io rivolgo solo mia sorella. Questo è impossibile, Nico, replicò Bianca con gentilezza. Sono il figlio di Ade, sì che è possibile! Non ci provare, replicò lei. Se mi vuoi bene, non... La sua voce si spense. Gli spiriti avevano ricominciato ad avvicinarsi e sembravano nervosi. Le ombre tremolavano e le voci bisbigliavano Pericolo. Il tartaro freme, esclamò Bianca. Il tuo potere attira l'attenzione di Crono. I morti devono fare ritorno agli inferi. Non è sicuro per noi rimanere. Aspetta, supplicò Nico. Ti prego! Addio, Nico, concluse Bianca. Ti voglio bene. Ricorda ciò che ti ho detto. La sua forma tremò e i fantasmi scomparvero, lasciandoci da soli con una buca, una cisterna dell'allegro sciacquone e una luna piena e fredda. Nessuno di noi moriva dalla voglia di mettersi in viaggio quella sera, perciò decidemmo di aspettare il mattino. Io e Grover crollammo sui divani di pelle del salotto di Gerione, una sistemazione molto più comoda dei sacchi a pelo nel labirinto, ma che non mi aiutò a evitare i miei incubi. Sognai di camminare insieme a Luke nell'oscuro palazzo in cima al monte Thames. Era un vero edificio, ora, non un'illusione incompiuta come quella che avevo visto quell'inverno. Fiamme verdi ardevano nei braceri lungo le pareti. Il pavimento era di lucido marmo nero. Un vento gelido soffiava nel corridoio e sopra di noi il soffitto era scoperto, mostrando un cielo in cui turbinavano grigie nuvole temporalesche. Luke era vestito da guerra, indossava dei pantaloni mimetici, una maglietta bianca e il pettorale di un'armatura di bronzo. Ma la sua spada, vipera, non era al suo fianco. Il fodero era vuoto. Entrammo in un ampio cortile, dove dozzine di guerrieri e di dracene si preparavano alla guerra. Quando lo videro, i semidei scattarono sull'attenti e batterono le spade sugli scudi. «È ora, mio signore?» chiese una dracena. «Non ancora, ma lo sarà presto», promise Luke. «Proseguite». «Mio signore», disse una voce alle sue spalle. Era l'impusa Kelly e sorrideva. Quella sera indossava un abito blu ed era di una bellezza micidiale. I suoi occhi luccicavano. A tratti erano marrone scuro, a tratti rossi. I capelli intrecciati e sciolti sulla schiena sembravano catturare la luce delle torce, come se fossero ansiosi di tornare alla loro forma infuocata. Il cuore mi martellava nel petto. Mi aspettavo che Kelly mi vedesse, che mi cacciasse dal sogno come l'ultima volta, ma sembrò non accorgersi di me. «Hai visite», annunciò Luke. Si fece da parte e perfino Luke rimase sbigottito. Di fronte a lui, in tutta la sua altezza, si stagliava il mostro Campe. I serpenti si bilavano fra le sue zampe. Teste animali ringhiavano attorno alla sua vita. Con le spade sguainate che scintillavano di veleno e le ali aperte, la creatura occupava tutto il corso ridoio. «Tu!» La voce di Luke sembrò tremare un poco. «Ti avevo detto di restare ad Alcatraz!» Campe strizzò le palpebre, che si chiusero in orizzontale come quelle di un rettile. Parlò in quella sua strana lingua, ma stavolta in un angolino del mio cervello riuscì a comprenderla. Disse, «Mi rimetto al tuo servizio. Voglio vendere». «Tu sei una carceriera», replicò Luke. «Il tuo compito li voglio vedere morti! Nessuno può sfuggirmi!» Luke esitò. Un rivolo di sudore gli scivolò lungo una tempia. «Ne va bene», concesse. «Verrai con noi!» «Porterai il filo di Arianna!» «Un grande onore!» Campe si bilò alle stelle. Rinfoderò le spade e si voltò, allontanandosi nel corridoio con i passi pesanti delle sue enormi zampe di drago. «Avremmo dovuto lasciarla nel tartaro», borbottò Luke. «È troppo ribelle! Troppo potente!» Kelly rise piano. «Non devi temere la potenza, Luke! Devi usarla!» «Prima partiamo meglio è», replicò lui. «Voglio chiudere questa faccenda!» «Ah!» esclamò Kelly in tono comprensivo, facendogli scorrere un dito sul braccio. «L'idea di distruggere il tuo vecchio campo ti cruzza?» «Non ho detto questo!» «Non è che stai avendo dei ripensamenti sul tuo... ruolo speciale?» «La faccia di Luke si induri!» «Conosco il mio dovere!» «Bene!» ribatte il demone. «Credi che le nostre forze d'attacco siano sufficienti?» «O devo chiedere aiuto a mia madre Ecati!» «Sono più che sufficienti!» rispose lui, cupo. «L'affare è quasi concluso!» «Ora devo solo negoziare il passaggio dell'arena!» «Mh!» rispose Kelly. «Sarai interessante!» «Non vorrei mai vedere la tua bella testa infilzata su una picca!» «Non la vedrai!» «Ma non hai altre faccende di cui occuparti, demonio!» «Oh, sì!» Kelly sorrise. «Sto portando la desperazione fra le spie dei nostri nemici!» «Perfino in questo stesso istante!» «Si voltò a guardarmi negli occhi!» «Sguainò gli artigli!» «E squarciò il mio sogno!» «All'improvviso, mi ritrovai in un posto diverso!» «Ero in cima a una torre di pietra, affacciata su una scogliera e sull'oceano!» Dedalo era chino su un tavolo da lavoro e armeggiava con una specie di strumento di navigazione simile a un'enorme bussola. Sembrava invecchiato di anni rispetto all'ultima volta in cui l'avevo visto. Era ingobbito e aveva le mani nodose. Imprecava in greco antico e strizzava gli occhi come se non vedesse bene cosa stava facendo, nonostante la giornata di sole. «Zio!» chiamò una voce. Un ragazzino sorridente, all'incirca dell'età di Nico, arrivò saltellando sulle scale con una cassa di legno fra le mani. «Ciò, perdice!» disse il vecchio in tono freddo. «Hai già finito i tuoi progetti?» «Sì, zio! Erano facili!» Dedalo si accigliò. «Facili?» «Il problema di trasportare l'acqua in salita senza una pompa era facile?» «Oh, sì! Guardate!» Il ragazzino mise a terra la sua cassa e cominciò a frugare fra le carabattole che conteneva. «Tirò fuori una striscia di papiro e mostrò al vecchio inventore una serie di schemi e di appunti?» «Io non ci capivo nulla, ma dedalo a noi, burbero.» «Capisco.» «Non male.» «Al re è piaciuto moltissimo!» replicò perdice. «Ha detto che potrei perfino essere più intelligente di voi.» «Davvero?» «Ma io non ci credo!» «Sono così contento che mia madre mi abbia mandato a studiare con voi! Voglio imparare tutto!» «Sì!» borbottò Dedalo. «Così quando morirò potrai prendere il mio posto, eh?» Il ragazzino sgranò gli occhi. «Oh no, zio!» «Però pensavo, a proposito, perché si muore?» L'inventore si accigliò. «È così che vanno le cose, figliolo!» «Tutto muore, eccetto gli dèi!» «Ma perché?» insistette il ragazzo. «Se si riuscisse a catturare l'animus in un'altra forma...» «Mi avete parlato dei vostri automi, zio?» «Tori, aquile, draghi, cavalli di bronzo?» «Perché non fabbricare una forma di bronzo per l'uomo?» «No, figliolo!» ribatté deciso Dedalo. «Sei ingenuo!» «Una cosa del genere è impossibile!» «Non credo!» ribadì per dice. «Usando un pizzico di magia...» «Magia?» «Ah!» «Sì, zio! la magia e la meccanica insieme!» «Con un po' di lavoro si potrebbe costruire un corpo simile in tutto e per tutto a quello umano, solo migliore!» «Ho preso qualche appunto!» Passò al vecchio uno spesso rotolo di pergamena. Dedalo lo aprì e rimase a leggerlo a lungo. So chiuse gli occhi. Lanciò un'occhiata al ragazzo, poi lo richiuse e si schiarì la voce. «Non funzionerà mai, figliolo! Quando sarai grande, capirai!» «Allora posso aggiustare l'astrolabio, zio? Avete di nuovo le giunture gonfie?» Il vecchio strinse la mascella. «No, grazie. Ora, perché non vai a farti un giro?» Perdice non sembrò notare la rabbia del vecchio. Pescò uno scarabeo di bronzo fra le sue carabattole e corse ad affacciarsi per ammirare il panorama. Un basso davanzale correva lungo il bordo della torre, all'altezza del ginocchio del ragazzino. Il vento era forte. «Stai indietro!» avrei voluto dirgli, ma non avevo voce. Perdice caricò lo scarabeo e lo lanciò nel cielo. La bestiola spiegò le ali e ronzò via. Il suo padrone rise deliziato. «Più intelligente di me!» borbottò Dedalo, troppo piano perché il ragazzino lo sentisse. «È vero che vostro figlio è morto volando, zio? Ho sentito dire che avevate costruito delle ali enormi, ma non hanno funzionato.» Dedalo strinse i pugni. «Prendere il mio posto!» brontolò. Il vento sferzava il ragazzino, tirandolo per le vesti, scompigliandogli i capelli. «Mi piacerebbe volare!» continuò per dice. «Costruirò anch'io delle ali e le mie funzioneranno!» «Pensate che potrei riuscirci?» Forse fu solo un sogno nel sogno, ma all'improvviso immaginai il dio bifronteggiano accanto a Dedalo che scintillava nell'aria sorridendo e passandosi una chiave d'argento da una mano all'altra. «Scegli!» bisbigliava il vecchio inventore. «Scegli!» Dedalo raccolse un altro degli insetti metallici del ragazzino. I vecchi occhi dell'inventore erano rossi di rabbia. «Per dice!» disse. «Prendi!» e gli lanciò lo scarabeo di bronzo. Contento, il ragazzino cercò di prenderlo al volo, ma il lancio era lungo. Lo scarabeo puntò verso il cielo aperto e, per dice, si sporse un po' troppo. Fu catturato dal vento. In qualche modo, però, riuscì ad afferrare il bordo della torre mentre cadeva. «Zio!» gridò. «Aiutatemi!» Il volto del vecchio era una maschera. Non si mosse dal suo posto. «Va avanti, perdice!» mormorò. «Costruisci le tue ali!» «Svelto!» «Zio!» gridò il ragazzino perdendo la presa e precipitando verso il mare. Ci fu un attimo di silenzio mortale. Il diogiano scintillò e scomparve. Poi un tuono scosse il cielo. La voce severa di una donna parlò dall'alto. «Pagherai per questo, Dedalo!» Avevo già udito quella voce. Era la madre di Anna, Bettatena. Dedalo alzò la fronte aggrottata al cielo. «Vi ho sempre reso onore, madre. Ho sacrificato tutto per seguire la vostra via. Anche il ragazzo godeva della mia benedizione e tu lo hai ucciso. Per questo dovrai pagare. non ho fatto altro che pagare!» ringhiò Dedalo. «Ho perso tutto! Soffrirò negli inferi senza dubbio!» Ma nel frattempo raccolse il rotolo di pergamena del ragazzo. Lo studiò per un momento, quindi se lo infilò nella manica. «Tu non comprendi!» insistette Athena freddamente. «Pagherai ora e per sempre!» All'improvviso Dedalo crollò a terra agonizzante e io provai ciò che provava lui. Un dolore lancinante mi chiuse il collo come un collare incandescento togliendomi il fiato oscurando tutto ciò che avevo intorno. Mi svegliai al buio con le mani serrate sulla gola. «Persi!» chiamò Grover dall'altro divano. «Stai bene?» Ripresi a respirare normalmente. Non sapevo come rispondere. Avevo appena visto il tizio che stavamo cercando Dedalo assassinare il suo stesso nipote. Come potevo stare bene?» C'era la tv accesa. Una luce azzurra tremolava nella stanza. «Che... che ore sono?» Craci dai. «Le due del mattino» rispose Grover. «Non riuscivo a dormire. Stavo guardando un documentario». Tirò su col naso. «Mi manca Juniper». «Mi strofina gli occhi per scacciare il sonno?» «Sì, beh... la rivedrai presto!» Grover scosse mestamente la testa. «Sai che giorno è, Percy? L'ho appena visto in tv!» «È il 13 giugno. Sono passati sette giorni da quando siamo partiti dal campo». «Cosa?» esclamai. «Non è possibile!» «Il tempo scorre più in fretta nel labirinto», mi rammentò Grover. «La prima volta che tu e Annabeth ci siete finiti dentro, pensavi che fossero passati solo pochi minuti, giusto?» «Ma era passata un'ora». «Oh!» mormorai. «Giusto!» «Poi finalmente capì cosa significava quella data e mi sentì di nuovo la gola chiusa». «La tua scadenza con il consiglio!» Grover si mise il telecomando in bocca e ne staccò il fondo a morsi. «Tempo scaduto!» disse con la bocca piena di plastica. «Non appena sarò tornato mi toglieranno la licenza di cercatore. Non mi permetteranno più di uscire. Gli parleremo noi, promisi. Li convinceremo a darti più tempo». Grover deglutì. «Non lo faranno mai. Il mondo sta morendo, persi. Ogni giorno è peggio. La natura è sempre più debole, lo sento. devo assolutamente trovare Pan. Ci riuscirai, amico. Non ho dubbi». Grover mi guardò con i suoi occhi tristi da capra. «Sei sempre stato un buon amico, persi. Quello che hai fatto oggi, salvare gli animali dalle grinfie di Gerione, è stato incredibile. Quanto... quanto vorrei essere un po' più come te». «Ehi», replicai, «Non dire così. Sei un eroe tanto quanto no che non lo sono. Ci provo, ma...» sospirò. «Persi, non posso tornare al campo senza aver trovato Pan. Non posso, lo capisci, vero? Non potrei più guardare in faccia Juniper. Non potrei più guardarmi allo specchio?» Mi si stringeva il cuore a sentirlo parlare in quel modo. Ne avevamo passate tante insieme, ma non lo avevo mai visto così depresso. «Troveremo una soluzione», lo rassicurai. «Non hai fallito? Sei il migliore, ragazzo capro, ok? Juniper lo sa e lo so anch'io». Grover chiuse gli occhi. «Il migliore», mormorò, avvilito. Molto tempo dopo che si fu appisolato, io era ancora sveglio a guardare la luce azzurra della TV che inondava le teste imbalsamate dei trofei di Gerione. Il mattino dopo tornammo alla griglia di sbarramento del bestiame e salutammo chi restava. «Niko, potresti venire con noi?» proposi di impulso. Forse stavo ancora pensando al sogno. Per dice, mi ricordava moltissimo Nico. Lui scosse la testa. Nessuno di noi aveva dormito granché bene in quel rancho demoniaco, ma Nico sembrava ridotto peggio di tutti. Aveva gli occhi rossi e la faccia bianca come un lenzuolo. si era avvolto in una vestaglia nera che probabilmente era appartenuta a Gerione perché sarebbe stata di tre taglie di troppo perfino per un adulto. Ho bisogno di un po' di tempo per pensare. Evitò il mio sguardo, ma dal tono di voce compresi che era ancora arrabbiato. Non gli andava molto giù il fatto che sua sorella fosse tornata dagli inferi per me e non per lui. «Niko», disse Annabeth, Bianca vuole solo che tu stia bene. Gli mise una mano sulla spalla, ma lui si allontanò e risalì faticosamente il sentiero che riportava alla casa. Forse era la mia immaginazione, ma la nebbia del mattino sembrava restargli attaccata addosso mentre camminava. «Sono preoccupata per lui», mi confidò Annabeth. «Se ricomincia a parlare con il fantasma di Minosse». «Stara bene», promise Euristeo. Il mandriano si era dato una bella sistemata. Indossava dei jeans nuovi e una camicia da cowboy pulita e si era perfino tagliato la barba. Si era infilato gli stivali di Gerione. «Il ragazzo può stare qui a riordinarsi le idee per tutto il tempo che vuole. Starà al sicuro, lo prometto». «E tu che farai?» chiesi. Euristeo grattò ortro sotto un mento, poi sotto l'altro. «Le cose andranno un po' diversamente qui al ranch d'ora in poi. Niente più carne di bestiame sacro. Ho una mezza idea di provare con gli hamburger di soia e voglio fare amicizia con quei cavalli carnivori. Forse potrei anche iscrivermi al prossimo rodeo». «Rabbrivi di?» «Buona fortuna». «Già». Euristeo sputò nell'erba. «E voi invece andrete a cercare il laboratorio di Dedalo, eh?» Gli occhi di Annabeth si illuminarono. «Ci puoi aiutare?» Euristeo studiò la grata ai nostri piedi e debbi la sensazione che quell'argomento lo mettesse a disagio. «Io non so dove si trova, ma Efesto probabilmente lo sa». «È quello che ci ha detto anche era», concordò Annabeth. «Ma come troviamo Efesto?» Euristeo si tirò fuori qualcosa dal colletto della camicia. Era una catenina d'argento con un ciondolo a forma di disco levigato. Il disco aveva un avvallamento nel mezzo come l'impronta di un pollice. Lo consegnò ad Annabeth. «Efesto viene da queste parti di tanto in tanto», spiegò. «Per studiare gli animali e roba del genere. Così può fabbricare le sue copie di bronzo. L'ultima volta gli ho fatto un favore. Uno scherzetto che voleva giocare a mio padre Ares e ad Afrodite. Per ringraziarmi mi ha regalato questa catenella. Ha detto che se avessi avuto bisogno di lui il disco mi avrebbe condotto alle sue fucine. Ma solo per una volta. «E tu lo stai dando a me?» chiese Annabeth. Euristeo arrossì. «Non ho bisogno di vedere le fucine, signorina. Qui ho già abbastanza da fare. Premi il pulsante e vi ritroverete sulla strada giusta». Lei premette il pulsante e il disco prese subito vita, sviluppando otto zampe metalliche. Annabeth strillò e lo fece cadere, lasciando Euristeo alquanto confuso. «Un ragno!» urlò. «Lei ha un po' paura dei ragni», spiegò Grover, per via di quella vecchia storia fra Atena e Aracne. Euristeo fece una faccia imbarazzata. «Mi dispiace, signorina». Il ragno zampettò sopra la grata e scomparve fra le sbarre. «Sbrighiamoci!» esclamai. «Quell'affare non ci aspetterà!» Annabeth non moriva dalla voglia di seguirlo, ma non avevamo molta scelta. Salutammo Euristeo, Tyson sollevò la grata da terra e ci tuffammo di nuovo nel labirinto. Magari avessi potuto mettere quel ragno meccanico al guinzaglio zampettava da un tunnel all'altro così in fretta che la maggior parte del tempo non riuscivo neanche a vederlo. Se non fosse stato per l'udito straordinario di Tyson e Grover non avremmo mai capito da che parte stesse andando. Corremmo lungo un tunnel di marmo poi sfrecciamo a sinistra e per poco non piombammo in un abisso. Tyson mi tirò indietro appena in tempo. Il tunnel proseguiva di fronte a noi ma per più di cento metri non c'era l'ombra di un pavimento. Solo tenebre che si spalancavano e una serie di maniglie di ferro infilzate nel soffitto. Il ragno meccanico era già a metà strada oscillando da una sbarra all'altra grazie ai fili metallici della sua ragnatela. Sono come le sbarre del parco giochi esclamò Annabeth di solito me la cavo benissimo. Si aggrappò con un salto al primo spunzone e cominciò ad avanzare ondeggiando. Un insulso ragnetto bastava gettarla nel panico ma di fronte al pericolo di precipitare in un baratro non batteva ciglio. Valla a capire. Annabeth atterrò dall'altra parte e corse dietro al ragno. Io la seguii. Quando arrivai di là e mi voltai a guardare vidi Tyson con Grover a cavalluccio sulle spalle. Attraversarono l'abisso in tre mosse il che fu una fortuna considerato che non appena mise piede a terra l'ultima sbarra di ferro si staccò sotto il loro peso. Continuammo ad avanzare e superammo uno scheletro accasciato nel tunnel in giacca e cravatta. Il ragno non rallentò. Scivolai su un mucchio di rottami di legno e quando li illuminai con la torcia mi accorsi che si trattava di matite centinaia di matite spezzate a metà. Il tunnel si aprì su una grande stanza e fumo investiti da una luce abbagliana. Quando mi abituai a quel chiarore la prima cosa che notai furono gli scheletri. ce n'erano dozzine sul pavimento. Alcuni erano vecchi e imbiancati altri erano più recenti e molto più disgustosi. Non puzzavano quanto le stalle di Gerione ma quasi. Poi vidi il mostro si ergeva su un podio luccicante in fondo alla stanza aveva il corpo gigantesco di un leone e la testa di una donna. Il viso sarebbe stato bello solo che era troppo truccato e i capelli erano legati stretti in una crocchia. Somigliava alla mia maestra di musica di terza. Qualcuno le aveva puntato sul petto una spilla con un nastro blu. Ci misi un po' a decifrare la scritta «Questo mostro è stato giudicato esemplare!» Tyson piagnucolò «La sfinge!» Sapevo benissimo perché era spaventato. Da piccolo Tyson era stato aggredito da una sfinge a New York. aveva ancora le cicatrici sulla schiena. Ai fianchi della creatura sprendevano dei faretti. Alle sue spalle dietro il podio c'era un'uscita. Il ragno meccanico sgattaiolò fra le zampe della sfinge e scomparve. Annabeth fece un passo avanti ma il mostro ruggì mostrando le zanne che le deturpavano il viso. Sulle due uscite del tunnel dietro e di fronte a noi calarono le sbarre. Il ghigno feroce del mostro si trasformò subito in un sorriso. Benvenuti fortunati concorrenti annunciò. Preparatevi a giocare a risolvi l'enigma. Un applauso registrato esplose dal soffitto come se ci fossero delle casse invisibili. I faretti mossero il loro raggio per la stanza riflettendosi sul palco e cospargendo di scintille gli scheletri sul pavimento come in discoteca. Ricchi premi e cotillon continuò la sfinge. Passate il test e avrete il permesso di procedere. Fallite e vi potrò mangiare. Chi sarà il nostro concorrente? Annabeth mi afferrò per un braccio. Ci penso io bisbigliò. So che cosa sta per chiedere. Non protestai troppo. Non volevo che fosse divorata da un mostro ma pensai che se la sfinge aveva intenzione di sottoporci degli enigmi Annabeth era la persona giusta per risolverli. Sali sul podio del concorrente che aveva ancora uno scheletro in uniforme scolastica barbicato sopra. Annabeth lo scansò con una spinta e quello cadde a terra in un acciottolio di ossa. Scusa gli disse benvenuta Annabeth Chase esclamò il mostro anche se Annabeth non aveva detto il suo nome. Sei pronta per il test? Sì rispose lei pronuncia pure il tuo enigma uno solo? Ce ne sono venti in verità rispose allegramente la sfinge cosa? Ma una volta abbiamo alzato gli standard per passare devi dimostrare la tua competenza in tutti e venti i quesiti non è meraviglioso? Gli applausi si accesero e si spensero come se qualcuno girasse un rubinetto Annabeth mi lanciò un'occhiata nervosa le risposi con un cenno di incoraggiamento ok disse alla sfinge sono pronta rullo di tamburi gli occhi della sfinge scintillarono di eccitazione qual è la capitale della Bulgaria? Annabeth aggrottò la fronte per un terribile momento pensai che non lo sapessi Sofia rispose ma giusto altri applausi registrati il sorriso della sfinge fu così ampio da scoprire le zanne sei pregata di segnare la tua risposta in modo chiaro e nitido sul questionario con una matita 2b cosa? Annabeth sembrò disorientata poi sul leggio che aveva di fronte comparverò un opuscolo e una matita appuntita segna tutte le risposte in modo chiaro e inequivocabile facendo attenzione a non uscire dal circoletto continuò la sfinge se devi cancellare elimina ogni residuo o la nostra macchina non sarà in grado di leggere le risposte quale macchina? chiese Annabeth la sfinge indicò con la sua grossa zampa accanto a un riflettore c'era una scatola di bronzo con una serie di ingranaggi leve e una grossa eta la lettera eta in greco antico su un fianco il logo di Efesto ora continuò la sfinge la prossima domanda aspetta un secondo protestò Annabeth che ne è stato del vecchio enigma cosa cammina su quattro gambe la mattina e come prego replicò la sfinge palesemente seccata l'enigma dell'uomo cammina su quattro gambe la mattina come un bambino piccolo su due gambe nel pomeriggio come un adulto e su tre gambe la sera come un vecchio con un bastone era questo l'enigma a cui sottoponevi le tue vittime una volta ed è proprio per questo che ho cambiato il test esclamò la sfinge conoscevi già la risposta ora la seconda domanda qual è la radice quadrata di sedici quattro rispose Annabeth ma giusto quale presidente degli stati uniti ha firmato il proclama di emancipazione che ha abolito la schiavitù abramo lincoln ma giusto enigma numero quattro quanta aspetta gridò Annabeth avrei voluto dirle di piantarla di lamentarsi se la stava cavando alla grande doveva solo rispondere a quelle domande e ce ne saremmo andati questi non sono enigmi dichiarò che vorresti dire la fulminò la sfinge certo che lo sono il materiale di questo test è stato ideato appositamente per sono solo un mucchio di stupide informazioni prese a caso insistette Annabeth gli enigmi dovrebbero obbligarti a pensare pensare? la sfinge si accigliò come potrei mai verificare se qualcuno è in grado di pensare è ridicolo ora quanta forza è necessaria per basta continuò Annabeth questo test è stupido Annabeth intervenne Grover nervoso forse dovresti ecco finire il test e lamentarti dopo? sono una figlia di Athena continuò lei e questo è un insulto alla mia intelligenza non risponderò alle domande una parte di me era molto colpita dalla sua presa di posizione il resto però pensava che il suo orgoglio ci avrebbe fatti ammazzare i riflettori mandarono un bagliore accecante gli occhi della sfinge scintillarono nerissimi ebbene mia cara replicò con calma il mostro se non vuoi rispondere hai perso e dal momento che non permettiamo a nessuno di tirarsi indietro sarai divorata la sfinge scoprì gli artigli che luccicarono come acciaio inossidabile poi balzò giù dal podio no Tyson si slanciò all'attacco di solito non ci vede più se qualcuno minaccia Annabeth ma non riuscivo a credere che fosse così coraggioso dopo la brutta esperienza che aveva avuto da piccolo afferrò il mostro a mezz'aria e crollarono insieme sopra un mucchio di ossa l'azione diede ad Annabeth il tempo necessario per riprendersi ed estrarre il coltello Tyson si alzò la camicia a brandelli la sfinge ringhiò cercando un punto scoperto io sguainai vortice e mi portai di fronte ad Annabeth diventa invisibile le dissi posso combattere no gridai la sfinge vuole te lascia che ci pensiamo noi come per dimostrarlo il mostro scansò Tyson con la sua grossa zampa e cercò di scagliarsi all'attacco mirando alle mie spalle Grover le ficcò una tibia in un occhio facendola strillare di dolore Annabeth si infilò il berretto e scomparve la sfinge balzò nel punto esatto in cui si trovava fino a un attimo prima ma rimase a zampe vuote non è giusto gemette imbrogliona dal momento che Annabeth era sparita dalla visuale il mostro si voltò verso di me sollevai la spada ma prima che potessi sferrare un colpo Tyson sradicò la macchina di valutazione dei test dal pavimento e la scaraventò sulla testa della sfinge spettinandole la crocchia il marchigegno atterrò in mille pezzi ai suoi piedi la mia bella macchina gridò il mostro adesso come farò a essere esemplare le sbarre si sollevarono dalle uscite ci precipitamo tutti verso il tunnel in fondo alla stanza potevo solo sperare che Annabeth stesse facendo lo stesso la sfinge fece perseguirci ma Grover tirò fuori il suo flauto e cominciò a suonare all'improvviso le matite si ricordarono che un tempo erano state alberi si raccolsero i piedi del mostro generarono rami e radici ed iniziarono ad avvolgersi attorno alle sue zà la sfinge le distrusse facilmente ma lo stratagem ci diede il tempo necessario per scappare Tyson afferrò Grover lo trascinò nel tunnel e le sbarre si richiusero Annabeth gridai sono qui mi rispose lei proprio accanto a me non ti fermare continuammo a correre al buio un tunnel dopo l'altro lasciandoci alle spalle i ruggiti infuriati della sfinge che si lamentava di tutti i test che adesso avrebbe dovuto correggere a mano a mano a healthcare a Grazie a tutti.